Sabato 25 aprile, in occasione del 75esimo anniversario della liberazione e del trentennale della scomparsa del presidente Sandro Pertini, in contemporanea su 30 emittenti televisive italiane, tra cui Cilento Channel, Canale Digitale Terrestre 636 e SmartTV www.cilentochannel.com, andrà in onda il film Il Giovane Pertini, combattente per la libertà di Gian Battista Assanti, prodotto da Genoma Film e Copa Alleanza 3.0, in collaborazione con Creiamo Production, nel cast Gabriele Greco, Dominic Sandra, Massimo D'Apporto. Il lungometraggio racconta di un uomo del suo coraggio e della sua battaglia alla ricerca della libertà, attraversando 12 anni della storia dell'Italia fascista, l'amicizia in prigione con Antonio Gramsci e il tormentato rapporto con la madre Maria e il suo grande amore Matilde, sacrificato per amor di patria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.